Che identità ha un giornale a carattere nazionale prodotto in Calabria? Identitario. Il quotidiano del sud innanzitutto ha una caratterizzazione, un suo DNA di declinazione provinciale. Noi nasciamo nel campo della informazione locale. Storicamente abbiamo sempre affiancato un'informazione nazionale per completezza informativa ai nostri lettori. A un certo punto ci siamo accorti che l'informazione nazionale era diventata ridondante e forse non dico inutile ma strabordante rispetto alla quantità di informazione con l'avvento di internet che è reperibile ovunque. Allora ci siamo interrogati e abbiamo immaginato, togliendo questa informazione nazionale fuori dalle pagine della informazione locale, di fare un'informazione identitaria.